Siamo molto contenti, loro sono una grande squadra, hanno giocato bene, ci hanno prestato alti, però quando riusciamo a uscire con la nostra qualità si è visto e secondo me abbiamo il dato di vincere questa partita, quindi siamo contenti e pensiamo alla prossima. Io direi l'intensità, giocando a due tocchi, spingendo forte, siamo riusciti ad andare sul fondo più volte e abbiamo avuto occasioni, noi siamo veloci, abbiamo molta intensità e velocità e quella dobbiamo sfruttare. Sì, indubbiamente noi pensiamo a fare il nostro, pensiamo a vincere partita dopo partita, soprattutto questa fila di partite importanti e guardiamo avanti, ormai sì, siamo primi provvisoriamente ma non abbiamo paura di pensare al Torluparo o pensare a altre partite, noi andiamo avanti, siamo contenti, siamo felici, quindi pensiamo alla prossima.